Siamo qui nel pre-partita della gara di allievi under 17 provinciali tra Torlupare e Gorilla con Simone Mingarelli. Intanto, buongiorno. Quali sono le sensazioni prima di questo incontro? Le sensazioni sono buone, noi sappiamo che siamo una buona squadra, sappiamo quello che dobbiamo fare fino alla fine del campionato e cercheremo di vincere anche oggi. Questa è una partita a livello di classifica con una certa differenza, però quanto sono importanti anche questi impegni se poi si vuole davvero vincere il campionato? Certo, sono importanti tutti gli impegni, non importa se la classifica non si deve guardare, si deve solo giocare e si deve vincere. Perfetto, allora grazie mille e in bocca al lupo per questa gara mattutina. Grazie mille.